Un'auto pirata ha ucciso ieri sera, poco dopo le 19, un medico a San Michele all'Adise, al confine tra Trentino e Alto Adise. Fabio Capelletti, 62 anni, era in bicicletta e stava attraversando la statale un centinaio di metri dopo lo svincolo che entra in paese. Il medico è stato investito da un'auto e scaraventato contro un secondo veicolo prima di finire a terra. Fabio Capelletti è morto praticamente sul colpo e a nulla è servito il pronto intervento del 118 col medico rianimatore. L'auto investitrice è fuggita e le forze dell'ordine hanno istituito da ieri sera vari posti di blocco. Fino ad ora senza esito le ricerche sul posto, alcuni elementi del veicolo pirata, tra cui uno specchietto, che potrebbero aiutare gli investigatori e al vaglio anche le testimonianze. Fabio Capelletti era molto noto in tutta la zona per la sua attività di medico di base. Ricoverato in ospedale in stato di shock il conducente della seconda auto investitrice, un 48enne del posto.